E' tornato, a che tempo che fa, Roberto Saviano. Finalmente! E l'abbiamo fatto! Sono tornato. E' intornato, a casa. Grazie. Quando vuoi lo sai. Beh, adesso parliamo di questo libro, Roberto, che devo dire è sorprendente. Il 16 aprile è appunto uscito per la casa editrice Fuori Scena. Noi due ci apparteniamo. Sesso, amore, violenza, tradimento nella vita dei boss. Sono storie che tu hai raccolto in tanti anni di incontri, pentiti, infiltrati. E da quello che ho capito, intanto diciamo che queste storie di amore, in realtà amore e mafia, partono da un presupposto che è fondamentale. Cioè, in tutte le mafie, la famiglia del boss è un banco di prova su cui testare la famiglia più grande, il clan. Proprio così. Non solo il vincolo di sangue, ma il controllo dei corpi. Io in questo libro ho messo lo sguardo e le parole laddove non si va mai. Cioè il racconto emozionale, sentimentale e sessuale dentro le organizzazioni criminali. Sai, devi immaginarti che una volta Falcone stava di fronte a Buscetta, quando Buscetta decide di pentirsi, e per la prima volta ascolta le informazioni da dentro l'organizzazione. E Buscetta dice, per diventare uomo d'onore, non devi tra dire tua moglie, non devi avere i genitori divorziati, non devi avere un fratello gay, non devi essere gay, non devi bere, non devi giocare d'azzardo. Non si aspettava questa sorta di ossessione sulle emozioni. Perché l'organizzazione deve controllarti. E per esempio l'ossessione per la monogamia. Se non sei monogamo, dentro alcune organizzazioni non sei affidato. Se non sei fedele contro la mia moglie, non sei affidato, perché puoi anche tradire. L'organizzazione. Attenzione, il controllo dei corpi. Infatti io cosa suggerisco al lettore, alla lettrice in questo libro? Nel momento in cui tu liberi te stesso dal giudizio anche altrui, puoi decidere di amare più persone contemporaneamente, una sola per tutta la vita. Qualunque scelta nella direzione della felicità e della libertà, ti sottrae al dominio di un meccanismo di potere. Tant'è vero che loro considerano per esempio il matrimonio non matrimonio d'amore. Cioè se tu ami una persona non la sposi, perché stai rovinando l'amore. Ha un suo senso, ha un suo senso. Matrimonio è uno strumento per legare famiglie, gruppi economici, organizzati. Puoi sprecarlo per amore. No, perché l'amore finisce. Il concetto è l'amore termina. Non può terminare un patto. Cioè Pasquale Condello, supremo, uno dei vertici dell'andrangheta, sua figlia vuole sposare un uomo per amore. Cosa ridicola pensa. Non esiste una cosa del genere. Perché andrebbe a rovinare quello che invece è un patto organizzativo. E il libro è pieno di storie che vanno in questa direzione. Fai affascinantissimo, è intrigantissimo. Lo mostriamo ancora, eccolo qua. Noi due ci apparteniamo. Si scoprono tantissime cose. Per esempio non è tutto uguale in tutte le organizzazioni. Cioè Mafia e Camorra hanno due atteggiamenti diversi rispetto al tradimento, per esempio. Beh sì, nel senso che per esempio in alcune organizzazioni camorristiche avere invece un profilo da Casanova mostra una maggiore capacità di seduzione. E quindi al contrario il capo dell'organizzazione viene identificato come affascinante. Quindi capace di poter attrarre a sé donne in questo caso e in altri casi anche affiliati. Il suo fascino è centrale. Ma il titolo per esempio io lo prendo da una lettera che scrive Laura Buonafede a Matteo Messina Denaro. Lei scrive e noi due ci apparteniamo. Questo è un dato di fatto. Come mai aveva così tanti amanti Matteo Messina Denaro? Beh innanzitutto era un uomo che sceglie, contrariamente alla tradizione del suo clan corleonese, un percorso di felicità. Può sembrare assurdo ma è così. Anche Buccetta dice lo stesso a Falcone. Io non ho fatto carriera perché ho molto amato e ho cercato di essere felice. Il potere non coincide con la felicità. Ma è solo responsabilità, ossessione, controllo. Messina Denaro era un boss che tra l'altro non voleva comandare. Anzi scappava dalle sue responsabilità. Si sentiva un imprenditore, un uomo d'onore. Ma quello che mi ha colpito è che quando ho parlato con una delle mie fonti, in questo senso, Antonio Patti, la prima cosa che mi dice è che Messina Denaro ha infranto la prima regola dell'uomo d'onore. Cioè, vi chiedo, è stato con una donna di un uomo d'onore. Non puoi, mai, neanche in caso di vedovanza. Nessun uomo d'onore può avvicinarsi alla moglie di un altro uomo d'onore. Invece Messina Denaro si innamora di questa donna e nel libro io analizzo dei dettagli inaspettati per me. Questa donna per la prima volta, che aveva sposato probabilmente per accordo delle famiglie, un uomo d'onore, killer, che aveva lavorato per Messina Denaro, che stava in carcere, per la prima volta si trova con quest'uomo, Messina Denaro, con cui condivide libri, film, ed essendo lui latitante può stare in casa. Quindi passa del tempo con un uomo, tutto il tempo. Non il tempo residuale del sonno o del lavoro, no? Diventa interessante, tra virgolette. Eh sì, perché infatti lo odorano. E la cosa bizzatta, perché pieno poi di storie anche bizzarre, a volte generano anche di sorriso amaro, lui è terrorizzato a un certo punto, perché quando esce per il suo paese, teme che le sue due fidanzate possono beccarlo, mentre lui è con l'altra. Quindi è interessante, tutte le polizie del mondo stanno cercando Messina Denaro e Messina Denaro in realtà ha solo paura che Laura incontri Ninfa e Ninfa incontri Laura, come in tutte le dinamiche più comuni. Ma quando interviene poi l'amore, è un cortocircuito, come nel caso di Palo di Laura, che si innamora di una ragazza russa, per la prima volta della sua vita scappa e va a vivere a casa sua in Russia. E lascia il clan allo sbando, poi ci sarà una delle faide più feroci della storia, perché le organizzazioni, quando incontri, inciampano dell'amore, del sentimento, va in cortocircuito, perché non puoi più obbedire a quella regola. Senti, qual è la storia di Lou, contabile della mafia new yorkese? Beh, quella me l'ha raccontata Gio Pistone, Donny Brasco, forse l'hai visto il film. Come no? E Gio Pistone mi racconta questa storia, che lui cerca di... è un poliziotto, è la storia più incredibile di infiltrazione, lui si infiltra per otto anni, sei, otto anni, dentro la famiglia Bonanno, e c'è questa storia. Sta giocando questo contabile di Cosa Nostra America a poker, ha in mano, secondo lui, insomma, le carte giuste per vincere, ma non ha più soldi. E allora mette sul tavolo la foto della moglie. Cioè si gioca alla moglie. Perderà. E quindi le persone che avevano vinto devono andare con sua moglie. Sua moglie però si ribella, segnala questa cosa a un capo clan, e il capo clan farà ammazzare suo marito. La regola è, se tu hai giocato tua moglie, chiaramente ti potrai giocare l'organizzazione. E quindi non serve. Il messaggio è sempre su questo, la regola. Senti, invece questa fotografia è di Maria Concetta Cacciola. La storia è terribile. È una delle storie più feroci del libro e dolorose. Questa è una storia d'amore. Si basa innanzitutto sulla possibilità di amare più persone. Ripeto, questo è un libro che spinge la libertà intima, emozionale, alla libertà, alla possibilità di decidere senza essere giudicati mai. Lei viene costretta, era piccolina, 13 anni, a sposarsi, con un quindicenne, in famiglia dranghetista, calabrese, e fa tre figli. Quando suo marito è in carcere, lei ha un flirt con un ragazzo conosciuto via chat. E ci fa l'amore. Questa espressione, in certe dinamiche, è assai peggiore di un omicidio. Se lei avesse ucciso qualcuno senza autorizzazione, sarebbe stata perdonata. Fa invece l'amore con un ragazzo. E lo rivendica. Verrà pestata da suo padre, da suo fratello, ma quello che succede è che un giorno il figlio viene fermato senza patente e quindi viene convocato in caserma. In quel momento crolla e inizia a raccontare tutto alla persona che sta raccogliendo il verbale. È la ferma. Dice, io non sono in grado di poter gestire tutta questa storia. Però ha un'idea geniale. Dice, io faccio finta che ho bisogno di risentirti. Quindi tu domani devi tornare qua per la questione del verbale di tuo figlio. Invece ti faccio trovare funzionare della dia. E così andrà. E lei si confessa. Si confessa e diventa un importantissimo testimone. Non collaboratrice. mai fatto parte dell'andrangheta. Quindi testimone di giustizia. La portano via dalla Calabria ma le mancano i figli. È in grande tormento e quello che succede è che un giorno telefona. Telefona alla madre convinta di trovare solidarietà tra madri ancora prima che figlia madre. La madre mette in viva voce e fa sentire il figlio più piccolo piange. Piange disperato. Chiede, Ah, dove sei? Perché te ne sei andata? Gli altri figli più grandi si commuovono sentendo il più piccolo piangere. Lei non riesce a treggere e torna giù. La lentezza della burocrazia ahimè della legge italiana non aveva permesso a questi figli di andare in regime di protezione con lei. Lei torna a casa e la situazione è difficilissima. Perché la famiglia la minaccia fa registrare un audio dove dice io mi sono inventato tutta questa storia dell'andrangheta perché mio padre e mio fratello mi avevano scoperta e quindi per rabbia ho inventato tutto questo. Finito quest'audio le dicono noi abbiamo fatto tanto per avere terreni per poter crescere economicamente per dare ai tuoi figli la possibilità di essere dei costruttori e tu invece cosa hai fatto? Per i comodi tuoi hai distrutto tutto e quindi che devo fare? Devi sparire questo è quello che dicono devi sparire lei si chiude in bagno e le inducono di fatto a bere l'acido muriatico si uccide così bevendo l'acido muriatico questa è una storia dove invece l'amore per un attimo poteva salvare ma l'amore verso se stessi c'è la libertà di decidere con chi fare l'amore chi baciare con quanti con chi poterlo fare è un classico diciamo di tutta una serie di storie laddove le donne scelgono di essere libere soprattutto le donne anche gli uomini ma quando scelgono di essere libere non controllate l'organizzazione non può lasciarlo fare perché significa poter permettere poi a chiunque loro dominano questa libertà senti invece l'omosessualità è ancora intollerabile in Italia per i clani le organizzazioni italiane rispetto alle organizzazioni americane anche per esempio Napoli a organizzazioni criminali in questo senso diciamo meno omofobe ma nel libro è un racconto di un killer un gancitano Filippo un killer di indrangheta che è considerato affidabilissimo perché molto diciamo tecnico noi quando vediamo gli omicidi nel cinema li vediamo molto lunghi e un attimo un attimo al punto tale devi pensare Fabio che se tu assistessi a un omicidio non riusciresti a riconoscere il killer è istantaneo velocissimo colpo via lui stesso quando poi si confessa spesso non ricorda quello che ha fatto mentre il cinema ci deve dare il tempo di guardare la scena e capirla ma non è così in realtà quasi mai è un istante questo killer era esattamente abile per questo passava colpiva nessuno neanche se ne accorgeva si innamora di un fabbero si innamora di un fabbero e va a vivere con lui a casa dei suoi genitori e l'organizzazione entra totalmente in ansia perché abbiamo un uomo che ammazza che non è maschio il sessismo il macismo tipico di queste organizzazioni al punto tale che quando è stato fatto il processo tuttora dicono no non è vero non è stato ucciso perché omosessuale affatto lo nascondono io lo portavo io a donne dice questo collaboratore non può essere perché l'onta inaccettabile inammissibile diverso negli Stati Uniti diverso negli Stati Uniti dove per esempio abbiamo delle storie di capi anzi killer affiliati che siccome si comportano correttamente l'organizzazione li tollera racconto poi una storia di due affiliati che nell'organizzazione criminale capiscono che una famiglia lucchese li sta per eliminare sfruttando la loro omosessualità in realtà perché sono molto efficienti loro collaborano con la polizia e chiederanno una scella insieme in galera cosa che l'FBI concederà questi sono racconti non solo ovviamente appassionanti ma enormemente importanti per capire dinamiche umane emotive dentro la comunità organizzata Roberto le racconta in noi due ci apparteniamo questo libro edito da fuoriscena ma le racconta anche a teatro perché nei teatri Roberto porta queste storie ha debuttato in anteprima a Sulmona lo scorso 11 aprile vorrei ricordare le prossime date a Roma l'auditorium della conciliazione il prossimo 3 maggio a Torino il 5 maggio a Genova il 6 a Milano agli Arcimboldi il 14 maggio e poi via via a Bologna a Varese Matera Melpignano e Fiesole Firenze appartenere ho chiamato questo spettacolo appartenere vita intima del potere criminale ti faccio ancora una domanda poi andiamo in pubblicità in questi mesi sono successe tante cose che ti riguardano troppe troppe come sempre la notizia più recente però diciamo riguarda Francesco Schiavone il boss dei Casalesi tu ci hai insegnato Sandokan detto Sandokan da 26 anni carcere durissimo l'uomo che da 18 anni condiziona l'esistenza di Roberto Saviano ha deciso di pentirsi la qualcosa per te dovrebbe essere un'eccellente notizia ma tu temi che non sia così insomma sì questo capo si è pentito bisogna capire se davvero collaborerà purtroppo l'argomento mafioso è scomparso con grande fatica grazie insomma ai libri al teatro al web a questo luogo qui io cerco di strappare spazi che vengono sistematicamente sottratti quando lui ha deciso di pentirsi dentro di me come dire mi è passata tutta l'esistenza perché decide di pentirsi beh ci sono probabilmente molte ragioni lui di fatto ha scontato l'ergastolo e se non si pente per via nel meccanismo stativo continuerà a stare in carcere e questa è l'unica possibilità di uscire ma cosa parlerà di cosa parlerà quanto dirà di vero che cosa vorrà dire soprattutto quanto dipenderà da tutta una serie di cose i magistrati che lo ascoltano hanno molta competenza ma suo figlio si era pentito non dicendo cose che insomma al mio modo particolarmente rilevanti sua moglie ho il terrore sempre che le organizzazioni criminali a un certo punto dicano molto poco perché sentono ciò che è sufficiente per uscire è continuare a mantenere non il potere criminale ma il potere economico quando un capo si pente comunque perde il suo ruolo criminale non può essere più capo ma può continuare a comandare il suo mondo economico